Iniziamo a fare un po' di mobilità cervicale in piedi, fletto la testa in avanti e in vieto, ancora uno avanti e in vieto. Voi tre, lentamente, quattro e cinque. Adesso ruoto la testa a destra, vengo giù, faccio un giro e vado a sinistra, torno alla destra, torno a sinistra. Ancora uno verso destra, ancora uno verso sinistra. Ok, torno in posizione centrale, avvicino l'orecchio alla spalla, poggio la mano sul capo e espiro. Mantengo la posizione, respiro. Uno, due, lascio, cambio. Appoggio dall'altra parte, avvicino l'orecchio alla spalla, poggio la mano sulla testa. Oh, e tiro bene tutto quanto il trapezio. Mantengo la posizione. Adesso un po' di mobilità per le spalle, giro le spalle indietro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Carro di giro, avanti. Uno, due, tre, quattro e cinque. Mi metto in giro così di vedere meglio, porto le braccia davanti, alzo le spalle verso le orecchie e giù. Tiro le spalle avanti e indietro, verso le orecchie e giù, avanti e indietro. Giù le braccia. Adesso, poggio la mano sulle ginocchia, faccio una specie di tato in piedi. Curvo la schiena, prendo l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, giù le testa, faccio una roba, fuori l'aria. Ancora, prendo l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria. Ma è l'ultimo, prendo le braccia in alto. Mi allungo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Giù le braccia, fletto la testa in avanti, schiacciando l'aria, giù, 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 fletto con le ginocchia, un tocco con le mani, il palimento fino ad arrivare e rilasso, muoileggio e respiro. Uno, due, tre, quattro e cinque. Andiamo, andiamo, andiamo su, slovo la schiena a partire dalla lupare. Ok. Vengo alla parete, ora è mobile, dove vediamo. Oscillare ora avanti. Andiamo, uno, due, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove, dieci, blocco su, giro la cavetta, uno, due, tre, quattro, cinque. E poi andiamo, giro, uno, due, tre, quattro, cinque. E capitano, pari scivati e vieniamo. Uno, due, uno, due. Ecco, uno, cinque, due, sei, sette, otto, nove, dieci. su, giro la pagina, uno, due, tre, quattro, cinque, faccio il palmo, uno, due, tre, quattro, cinque, rimango in questa posizione, afferro il tetto dietro, avvicino al talone al gluteo, attiro, ti mantengo, uno, due, tre, quattro, cinque, adesso porto la gamba avanti, appoggio il talone interno, me lo colgo davanti, tocco con la mano la punta del piede, tiro la punta del tetto verso il viso, mantengo uno, due, tre, quattro, cinque, e dal musco, rimango in gamba. afferro il piede, tocco con me la pagina, piede in gamba, dammo uno, due, tre, quattro, e cinque, rimango in gamba avanti, tiro la punta verso il viso, fai la punta, fermo uno, due, tre, quattro, cinque, e dal musco, rimango in gamba, adesso, sentiamo una parete, se no vi asciugiamo la parete, facciamo un esercizio per la mobilità delle spalle, allora, mettiamo le mani di fronte, mani e spalle, mani contro il muro, chiediamo le mani, così, e man mano saliamo, mano su, su, vai, 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 mano a mano restate nel vicino, e scendo, scendo, stessa cosa, apro, chiudo le mani, apro, chiudo, vai, 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 arrivo a voltezza del petto, arrivando su, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, mano a mano salgo, mi abbraccio, mi abbraccio la parete, torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, adesso il movimento che facciamo è di rotazione, quindi poggiamo, pollice, e minio, e facciamo questo, e saliamo così, infoggio, vado, pollice, indice, pollice, indice, mano a mano restate nel vicino, è nudo, vai, vai, non torno indietro, vai, pollice, indice, pollice, indice, pollice, indice, pollice, indice, pollice, indice, pollice, indice, vai, mignolo, scusate, non indice, mignolo, ho sbagliato prima, vabbè, mignolo, pollice, mignolo, pollice, mignolo, pollice, mignolo, pollice, adesso mi avvicino perché posso al mignolo, apro le braccia a croce, e stessa cosa di prima, chiudo, chiudo, apro, e disegno un semicirchio, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, chiudo, apro, vai, fida su, e torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, fino ad arrivare all'altezza delle spalle, ritorno su, ancora uno, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, vai, apro, chiudo, torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, ancora, vai, e stop. Adesso ci giriamo, mettiamo la schiena contro la parete, i piedi sono paralleli all'altezza delle arche, fletto un po' la ginocchia, cerco di avvertire tutta la schiena sulla parete, e fa abbassamento, e cerco di avvicinare la nuca, e il più possibile al muro. Se qualcuno di voi fa una cifosi, quindi non riesce ad avvicinare bene la nuca, vuoi mettere un cuscino in piedi con la testa, altrimenti sto in questa posizione, palmo delle mani girate, quindi il dorso della mano contro il muro, in questa posizione, prendo aria, fuori aria, tiro con la mano verso i piedi, spingo con la nuca contro il muro, e mi lascio, prendo aria, fuori, e mi lascio, ancora, puoi, schiaccio bene tutta la schiena, mi allungo, mi allungo, mi allungo, e mi lascio, ancora uno, fuori, e sto, faccio questo, e avvicino l'orecchio alla spalla, faccio la mano sull'orecchio opposto e mantengo la posizione. Ancora, ancora, e ritorno, calmo lato, mantengo, 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 e ritorno su. Adesso, piano piano ci mettiamo a terra, qui voglio metterci a pancia su, quindi sui piedi, ci mettiamo un attimo in posizione, quindi poi andiamo via, e in questa posizione, facciamo il braccio, e poi andiamo via, fuori aria, 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 E sto, mi metto a terra, mi taglio vicino ai pesetti e lascio la mano. Mi metto giù, subina, guardo il soffitto. Oggi cerchiamo di appiattire più che fossiamo la schiena sul pavimento. Quindi facciamo una leggera retroversione del bacino, palma delle mani verso il soffitto. In questa posizione prendiamo aria, fuori aria, tiro con le mani verso i piedi, cerco di mantenere giù il mento, non vengo su un mento, non vengo giù. E torno, prendo aria, fuori. Torno ancora con aria, fuori. Torno, prendo aria, fuori, tiro, 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 allontano le spalle dalle orecchie, cresco, cresco, cresco. Ancora uno, prendo aria, fuori. E soffitto, stessa cosa, ma le braccia, questa volta le diamo a croce, così. Adesso le diamo con le mani verso l'esterno. Entrambe le mani, eh. Prendo aria, fuori, tiro, schiaccio la schiena. E lascio, prendo aria, fuori, tiro. E torno, prendo aria, tiro. E torno, ancora uno, prendo aria, tiro. E so. Adesso, ripetiamo la stessa cosa con le braccia al canale lato in questa posizione. Che per problemi di articolazione di spalla non riesce a stare in questa posizione, con il vomito, il braccio, il flesso, 90 gradi, o avre un pochino, l'avre un vomito, oppure mette un sostegno, che può essere un stradello, o qualsiasi cosa, sotto la mano, che rimane in questa posizione fin dove riesce a scegliere. E facciamo la stessa cosa di prima, prendo aria, fuori aria, schiaccio la schiena, di aumento. Dovresti sentire tirare il pettorale, prendo aria, fuori, ancora, prendo aria, fuori, poi l'ultimo, prendo aria, fuori, testa, ora, prendiamo la nostra scuola mano, arriviamo in torno, lo afferriamo così, con l'impugnatura, all'altezza delle spalle, quindi così, veniamo giù, sempre collegando ai flessi, ieri all'altezza delle anche, da questa posizione, parto con la scuola mano che tocca le casce, tiro forte, 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 lascio la mano come se lo potessi rompere, svezzare, prendo aria, fuori aria, tiro, 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 e poi, andiamo a ritornare, e torno indietro, lento, ancora, l'altezza delle aria, fuori, tiro, 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 le scapele si toccano, le spaglientano le orecchie, torno, ancora, l'altezza delle aria, fuori, 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 ancora, l'altezza delle aria, fuori, torno, vai l'ultimo, e stop, adesso, poggio la scena mano, porto le braccia in alto, mi allungo, tengo una mano, l'ultimo braccio, tira, 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 come se avessi raggiungere qualcosa, e poi l'altro, vai, tiro, 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 e poi l'altro, ancora, tiro, 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 e poi l'altro, vai l'ultimo, tiro, 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 e stop, torno, porto giù le braccia, palmo delle mani, sempre verso il soffitto, da questa posizione, oggi ricordiamo che, di tenere sempre bene, tutta quanta, aderente la schiena, al pavimento, palmo delle mani, verso il soffitto, espiro, palmo, espiro, stendo nella palesa, col piede al martello, qui dell'unghia, tutta la patina, non mi spara di più, e torno, prendo aria, vai, direttamente stendo, penna al martello, una pateta, e torno, ancora, prendo aria, fuori, e torno, tiro con le mani verso i piedi, prendo aria, fuori, e torno, ancora, prendo aria, fuori, torno, ora uno, prendo aria, fuori, vai, il ultimo, prendo aria, fuori, e resta, adesso, porto un ginocchio a petto, afferro il ginocchio sotto il cavo pubblico, tiro il ginocchio al sifetto, mantengo l'osizione, respiro, fuori, fuori, attraverro il ginocchio, allungo, la gamba, opposta, prendo aria, ancora una, rifletto la gamba, poggio il tallone sul ginocchio opposto, vado in apertura, vieni, spingo con la mano sul ginocchio, l'apertura, mantengo la posizione, fuori, ancora, fuori, cambi la mano, adesso parto il ginocchio, verso la spalla opposta, tiro, per l'aria, fuori, fuori, ancora, fuori, e cambio la gamba, vai, tallone sul ginocchio opposto, spingo l'apertura, e mantengo la posizione, prendo l'aria, fuori, torno, fuori, non ho dimenticato, l'altro esercizio lo facciamo dopo, adesso, con il ginocchio, verso la spalla opposta, tiro, mantengo, fuori, fuori, l'aria, ok, adesso porto il ginocchio e il petto, fermo il ginocchio su quel caldo, il glideo, tiro il ginocchio verso il petto, fuori, fuori, ancora uno, fuori, stai tornando opposta, tiro, ancora, ancora, torniamo con le gambe, flesse, prendo i pesetti, per chi ce li ha, per chi non ce li ha, può fare esercizio anche senza pesetti, facciamo esercizio un po' di novità, sempre per le spalle, allora porto i gomiti all'altezza delle spalle, non a tre ati, sto ben dritto con la testa, se occupati di cervicale, metto sempre un puccino dietro la nuva, con i pesetti o anche senza pesetti, gomito e braccio a 90 gradi, porto i pesetti verso il pavimento, vado in intratazione, e prendo aria, fuori di aria, scusate, dopo la vado, la vado in intratazione qua, vado di aria, piano, piano, e torno, prendo aria, fuori, vado in intratazione, anche qui, se avete dei problemi, e non riuscite a fare tutta quanta l'escursione, non fa niente, rinfermatevi due aria, l'importante è che la facciate, e indietro, piano aria, fuori aria, arrivano entrati, piano aria, fuori aria, ancora, piano aria, e fuori aria, verso, lascio i risetti, mi metto solo a fianco, questa posizione vitale, una mano sotto la testa, l'altro braccio, su, e torno anche questo, l'angolo 90 gradi, con il nostro corpo, ben allineati, spalle, intanto le bollecchie, in questa posizione, con il collo, la testa allineata, quando inspiro, sono rilassato, quando inspiro, allungo la mano, verso il soffitto, vai, prendo aria, fuori aria, allungo, tiro, 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 e torno, piano aria, fuori aria, allungo, ancora, piano aria, fuori aria, tiro, tiro, ancora un, metto aria, fuori, e sto, adesso, riprendiamo il pesetto, e facciamo, un esercizio, per i muscoli, ex, e due di spada, allora, adesso togliamo il burrito, e il braccio, 90 gradi, ben allineati, in questa posizione, per il collo, poi aria, apro, arrivo all'apertura, e, piano aria, torno, ancora, prendo aria, fuori, arrivo all'apertura, e torno, ancora, prendo aria, fuori, e torno, l'ultimo, prendo aria, fuori, torno, l'ultimo, prendo aria, fuori, e stop, riprendiamo lo stesso esercizio, questa volta, il braccio, il peso, quindi si fa, su questa condizione, apro, e lentamente, torno giù, tengo, 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 avrò, torno aria, fuori, tiro, 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 apro, e, torno giù, piano, piano, ancora, avrò, fuori, e, torno giù, ancora, prendo aria, fuori, e, torno giù, l'ultimo, prendo aria, fuori, e, torno giù, lascio il pesetto, poggio il braccio sulla testa, e, rilasso in questa direzione, volo avanti, e, indietro vai, avanti, e, indietro, ancora, avanti, e, indietro, avanti, indietro, adesso apro, 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 provo a portare il braccio, da parte in posta, e, mantengo la posizione, respiro, ancora, ancora, e, stop, e, torniamo, cambiamo, lato, avanti, via, avanti, ci mettiamo, con mano, sotto la testa, andiamo a rinunza, gradi, il braccio, sempre con un materiale, dedo, verso l'alto, prendo aria, fuori aria, tiro, 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 e, indietro, e, mi brazo, ancora, tiro, mi brazo, ancora uno, brazo, brazo, tiro, prezzo il pesetto, braccio a 90 gradi, prendo aria, fuori aria, apro e lentamente torno per aria, fuori, e torno per aria, fuori, e torno ancora per aria, fuori, e stop. Allungo il braccio, col braccio teso, prendo aria, fuori, e torno per aria, fuori, e torno ancora per aria, fuori, e torno per aria, fuori, torno per aria, fuori, e stop, lascio il pesetto, poggio il braccio sulla testa, mi allungo, torno davanti, e indietro, avanti, e indietro, ancora avanti, e indietro, avanti, adesso avro, 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 poggio il braccio fin dove arriva, adesso fa il passaggio il passaggio, sta in mezzo, ok, e respiro. sembra il colpo in questo posto, ok, e torno. Adesso, l'ultima posizione, l'ultimo esercizio che facciamo da seduti sui talloni, oh, se da fastidio, con lo piede, mettiamo una mano un pochino sotto, sotto le gariglie, ci sediamo, oh, e ci allungiamo. allungo, 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 lungo, allungo, allungo, limpo, giù, destra allungo mano, allungo lato, allungo mano, allungo lato, ancora, tiro, 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 tiro e adesso, avro, le mani, piano piano, tiro a, chiudo a, punto e ruoto da una parte e nel frattempo mi allungo. Diro, giro, giro, prendo da tiro, manca anche un pochino l'obiezione e turno, vai. Faccio il tipo un banchetto, chiudo a, chiudo a, chiudo a, chiudo a, chiudo a, chiudo a, capo a, chiudo a, chiudo a, chiudo a, chiudo a. Ok, e cerco. Adesso porto la fronte sulle mani. Se riesco, guardo giù, guardo la fronte sulle mani, se non riesco, rimando giù, perché per avere abbastanza elettricità sulla catena muscolare possibile, faccio proprio un pugnetto e pongo la ponte. Se no, lascio più, pongo la ponte sul quadro. E respiro per l'aria. Fuori. Questa posizione è utilissima per scaricare tutte le tensioni che abbiamo sul collo e sulle spalle. Visto che è un pochino che abbiamo fatto lavorare, adesso fuori la testa da una parte e mantengo. Respiro, respiro, respiro. Cambio, fuori la testa da una parte. Lo attengo, respiro. Ok, adesso piantiamo, vengo su, fado via via. E li faccio intatto. Guarda, roba. Respiro. La mia varia. Espiro. Respiro. Prendo l'aria. Espiro. Prendo l'aria. Espiro. Adesso piano piano, fronti i piedi, schiacciare le mani, vengo su, l'ultima volta che salgo la testa, svolgo la schiena. e vai. Scioglio le spalle. Vai, scioglio le gambe. Porto sulle braccia, la gioia. E fuori aria e lascio andare giù. Mi sgonfio, mi sgonfio, mi sgonfio, mi sgonfio. Prendo l'aria da su. Fuori giù. E lascio andare. Beh, l'ultimo. E fuori. E per oggi abbiamo finito. Sentiamo un po'. E per oggi sono un po' di credito non vi Non vi baum. In People